E vi siete versi? Vabbè, chiaramente gli umori sono gli stessi vostri, quindi potete immaginare il nostro stato. Perché diventa difficile quando gli errori si ripetono, abbiamo detto già tutto. Mancano le conclusioni, la preparazione atleti. Tranne Meret che è straordinario a reggere questo clima, il resto è veramente destabilizzante. Molto destabilizzante. Tra l'altro è anche difficile riuscire a fare un'analisi che possa aggiungere qualche elemento rispetto a quanto detto effettivamente fino alla partita con l'Inter. Ma questo ti fa rabbia, perché vorremmo nuovi argomenti, vorremmo essere aiutati. Tra l'altro la partita è andata esattamente come ci si aspettava. Cioè il canovaccio tattico è stato quello, l'alleggiamento della Juventus è stato quello che ci si aspettava. Non è che ha fatto cose straordinarie, anzi, però è così. Non c'è quel guizzo, la partita è stata persa nel primo tempo. Vogliamo rompere il clima Emanuela, salutiamo Ciro e Paco che devono andare. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo un successo strepidoso. Invitati, grazie per essere stati con noi. Noi vi perdete lo spettacolo, facciamo rivedere la lucratina. Ciao Paco, grazie. Buon Natale. Ciao, è stato un piacere. Mi raccomando, al teatro Toto, non mancate di vedere Ciro Cerruti, doppia coppia, dal 15 dicembre al 7 gennaio. Sai cosa c'è Patrizio, per tornare a parlare di calcio? È finita la pazienza. E tu mi dirai, ah è vero, non siamo più pazienti. No, è finita la pazienza della squadra. Sì, anche loro chiaramente, patisco. La nostra è normale, ma quella della squadra. Il Napoli ci ha abituati, con il suo gioco, a distruggere gli avversari. Ci sono state partite dove non facevi gol, ma continuavi e insistevi. Adesso il non fare gol ti innervosisce talmente tanto da cambiare anche il tuo modo di giocare. Non hai più quella pazienza di continuare a fare un determinato canovaccio. Quando cambi non sei pronto, perché non ce l'hai nelle corde. E alla fine, se non è per casualità, se non è per calcio piazzato, il gol fa fatica ad arrivare. La verità è però, scusami, finisco, è che le responsabilità bisogna iniziare a darle ai giocatori più importanti. Cioè, basta, ok Rachmani, ok Meret, basta. Ora, la responsabilità si andavano a prendere sulle spalle chi va a bussare per il rinnovo, chi fa parlare i procuratori di alcune cose. La responsabilità più grossa è sempre quella del Presidente, attenzione. No, ma questo è capito che è anche il vantaggio del Presidente. Cioè, i giocatori hanno perso quel potere che avevano. Questa è la magra consolazione di chi era di perdere per avere ragione. Quindi, con grande onestà, la trovo, hai ragione. È così, è proprio così. Perché lui adesso, nel momento in cui un procuratore gli va a chiedere un rinnovo di contatto, li caccia via a Cagli. Cioè, capito, come al solito, la fortuna aiuta solo dell'Aurendis. Sì, ma che fortuna è? Però certo, hai distrutto la squadra. Io preferisco dare 3 milioni in più a Osimenti, 2 milioni in più a Cagliascheglia, piuttosto che perdere 100 milioni per la mancata qualificazione. Capito? Perché stiamo parlando di una perdita di quasi 100 milioni di euro, se non ti qualifici. Sì, scusi. Guarda, la cosa più... Noi abbiamo sempre ritenuto dell'Aurendis un fortunato, uno che aveva tanta fortuna. Mettiamola così, ok? La cosa più strana che potrebbe succedere quest'anno è che il Napoli arriva a quinto, è che il ranking UEFA dell'Italia migliora e ci sono 5 squadre che vanno in Champions. Ah. Bingo! E quello è capace. Eh, lo è capace. Stai scherzando? Sono sicuro. De Laurentiis ieri disse una cosa che mi ha fatto particolarmente riflettere. Cioè, ha detto il Napoli, rispondendo alle domande sulle difficoltà del Napoli nella stagione in corso, ha detto, tra le varie motivazioni, poi c'è anche da considerare le altre che si rinforzano. Ebbene, il Napoli che ha fatto quest'estate? Cioè, De Laurentiis ha avuto una linea in base alla quale era davvero convinto che il Napoli si stesse rinforzando con gli acquisti di Cajust, Nathan e Lindstrom. Allora, io vorrei chiedere, perché qua abbiamo dato le responsabilità a Garzia che ne ha avute tantissime. Quindi, attenzione, non riabilitiamo adesso il vecchio allenatore perché ha avuto tantissime responsabilità. Si danno tante responsabilità ai calciatori che sbagliano cose anche elementari, effettivamente, o che sembrano o che dovrebbero essere elementari, però lì c'è una squadra che non si è rinforzata, che si è addirittura indebolita, che ha fatto un intervento sul mercato come quello di Lindstrom, che è ancora un punto interrogativo. hanno tutti reso molto al di sotto rispetto alle aspettative del Napoli, perché se no il Napoli non andava a spendere soldi per acquisare. Poi, anche l'acquisto di Lindstrom, in un ruolo che non è il suo, cioè, davvero, sono tanti interrogativi. Io penso che più che Garzia e calciatori, e adesso Mazzari, che sinceramente più di questo non penso che potesse fare in questo momento e col calendario che ha avuto a disposizione, penso che le responsabilità siano a monte e vadano, diciamo, assunte ed analizzate in maniera molto chiara, perché non sono le altre che si sono rinforzate, è anche il Napoli che si è rinforzata. Ma anche il timore rispetto alle altre squadre, ci affrontano in modo diverso. Ma molto diverso, però lì può essere il cambio allenatore, insomma, ci sono anche delle motivazioni che attengono poi al campo, insomma, quello che accade negli spogliatori. Il problema è a monte, cioè la costruzione di questa squadra e la logica che l'ha animata. Dovremmo capire questo. Io vorrei una conferenza di Aurelio De Laurentiis, in questo caso la desideriamo. È parecchio, è che non fa... È parecchio, che non fa... Parla, però, incidentalmente... So fare solo una domanda, insomma, a chi ovviamente ha giocato, e mi riferisco a Francesco e a Gennaro. Riguardo alla condizione fisica, che è lampante, è oggettivo, che il Napoli, purtroppo, anche stasera, gioca un tot di minuti, ha arrembante, fantastico, tutto a posto, magari poi sbagli, però la condizione fisica c'è, poi viene meno. Cosa si fa in questi casi? Cioè, l'ignorante di turno, io penso a San Arpusà, cioè si devono riposare, oppure si lavora, si continua a lavorare mai in un altro modo? Come la recuperi questa forma fisica? No, vabbè. Allora, il problema è che dipende. Quello che hanno fatto il meditero pre-campionato è quello che deve fare oggi il preparatore di Mazzarri, con Relli. La condizione fisica la recuperi pian pianino, anche facendo turnover. Magari danno anche dei turni di riposo a chi magari fino ad adesso ha sempre giocato. Però ti dico un'altra cosa, che molto spesso, vedi, fare gol, faccio l'esempio, il Napoli fa gol al primo tempo, ti porta nelle condizioni di non faticare troppo per andare a, puoi gestire quelle forze che c'hai di 70, oggi c'hai 60 minuti, tu se fai gol, magari difendendoli magari un po' più a corto, non hai bisogno di fare quel pressing offensivo, riesci anche a tenere qualcosina in più. Allora, tutto dipende, anche se riesci a chiudere le partite velocemente. Il Napoli, purtroppo, nelle ultime 4-5 ha sempre fatto fatica. Eh, ma sono 15 partite. Quello è il discorso. Quello è il discorso. Se tu riesci a fare una partita, 1-2-0, tu le forze riesci anche a gestire diversamente. E riesci ad arrivare fino al novantesimo, magari con un po' di benzina in più. Stasera è stato eclatante, i primi 20 minuti e poi dopo 20 minuti proprio spenti. Emanuele mi ha detto, ma quando si parlava dell'Ettuale della condizione fisica, guarda come sta calando, mi ha detto, ma quanto tempo ci vuole l'Ettuale? All'inizio di arrivare almeno a gennaio. A gennaio, sì. Perché adesso stai giocando ogni tre giorni, non hai neanche la possibilità di allenare. Ecco, ma c'è una polemica in corso pure. Neanche di fare quelle sostituzioni che diceva lui col turnover, perché le partite così... Su questo ritmo di gioco c'è una polemica proprio generale che li stanno un po' stressando dei calciatori. Allora, Gennaro ha toccato un tasto importantissimo. Se tu fai gol, fidati che i 60 minuti di condizione arrivano a 70, perché c'è un aspetto mentale che ti dà sempre quel qualcosino in più. Oggi, guarda, paradossalmente, dico una cosa forte, un'eresia, conviene più che il Napoli perde terreno, che arriva tipo settimo, ottavo e roba per iniziare tutto da capo e poi rifare il filotto. Perché lavorare con lo stress del risultato è pesantissimo. Paradossalmente, se dici, ok va bene, perfetto, non me ne frega niente, non ci vogliamo neanche qualificare. Pensiamo già all'anno prossimo, è come se tu liberassi mentalmente la squadra di un peso. Chiaramente non lo puoi fare, ho detto paradossalmente, una cosa assurda, forte. Perché ora l'aspetto mentale è molto più importante di quello fisico. Però Mazzari deve avere la forza di non far disperdere adesso le energie nervose ai ragazzi fuori dal campo. Ce le devono spremere lì dentro. Fuori non ci devono pensare. È dura, ma non ci devono pensare. Vabbè, vogliamo vedere la pagella. Sì, vediamo la pagella, la facciamo commentare anche da chi si chiama da casa. Continuate a chiamarci allo 0810145948 e poi sono veramente infiniti i messaggi che ci stanno scrivendo. Li leggiamo subito dopo questa telefonata. Quindi andiamo al telefono. Pronto? Buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera. Complimenti per la transizione. Sono un vecchio di 65 anni. Seguo sempre in Napoli da che ero piccolo. Poi mi spiego. La prima curva è del Presidente. La prima curva? È del Presidente. Ah, colpa. 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 di comprare il tessino su una faccia sinistra. Poi la colpa è di Cassia. Si ha dominato tutto il Napoli. Tutta la preparazione è sbagliata. E adesso per farli correre un'altra volta a questi giocatori, su un altro anno, perché Cassia l'ha distrutto, è un'altra cosa. Meret non è cosa tua. Se ne deve andare a casa. Per 3B e deve mettere il secondo potere del Napoli, che è il migliore di lui. Buonasera e grazie. Buonasera, grazie a lei. È contrariato e possiamo capire perché c'è il risultato. Commentiamo la pagella. Non classificato a Meret. È chiaro che il mio non classificato è provocatorio. perché settimana scorsa per me con l'Inter aveva fatto una buonissima partita, gli avevo dato addirittura 6,5 e sono stato giudicato in maniera, la mia pagella è stata giudicata in maniera pessima perché tutti sostenevano che Meret avesse delle colpe. Abbiamo appurato tutti quanti che tecnicamente il ragazzo non aveva colpe. Il mio non classificato stasera perché nell'unica azione, poi tra l'altro fischiato il fuorigioco, si è fatto trovare pronto. Dopodiché non ha potuto fare nulla. Né un intervento degno di cronaca perché la Juve non ha mai calciato bene nello specchio della botta e nell'azione del gol la colpa è chiaramente purtroppo non la sua ma è di un altro calciatore. Quindi il mio è un non classificato come per dire a questo ragazzo stasera non gli si può dire nulla. Comunque credo, vedendo i voti che hai dato, che questo sia stato spiegato da quanto hai detto pochi minuti fa. Cioè da quella condizione psicologica, per cui è la prestazione fisica alla quale dovrebbero rimediare. Per cui sei stato generoso. Assolutamente. Che rispetto alla partita che abbiamo visto, un Rachmani 5. Il Rachmani è da 4,5. Però questo lo hai spiegato perfettamente quello che dicevi prima. Volevo ascoltare, vai vai Francesco. Scusami, c'è poi un voto che do importante che è il 6,5 a Kvara. Sì. Eppure voglio giustificare anche questo. Kvara Schiele è comunque l'unico calciatore che ci ha provato fino alla fine. Quando prima diceva, io Kvara Schiele non lo toglierei mai, dice una cosa giusta perché è quel giocatore che veramente può inventare la giocata. Ed è l'unico che ci ha provato e in qualche modo ci è riuscito. Certo, a lui quando non fai gol, assist o giocate determinanti, molto spesso non gli puoi dare un voto importante e poi stasera in più c'è il fatto di aver sbagliato un gol al primo tempo che probabilmente ha portato la partita ad essere così. Io gli do 6,5, anche qui provocatorio, solo per far capire che su questo giocatore si deve assolutamente puntare, anche se non sta facendo bene, ma non può mai, mai mancare. Certo, certo. Io vorrei sentire, prima di gennaio, il commento di Mattia Lavagella. Io sono d'accordo su tutto. Dico che avrei abbassato mezzo punto Rachmani, ma Francesco ha spiegato perfettamente. Sul resto, anche sul 5,5 a Dosimene, che non hai commentato Francesco, sono al 100% d'accordo perché non è mai stato veramente nel vivo del gioco. Forse un po' meglio come condizioni fisiche, si può dire, rispetto alla scorsa partita e le scorse uscite, questo è chiaro, però ancora poco incisivo nelle giocate. In generale tutto l'attacco del Napoli sta mancando in questa lucidità finale, nell'ultimo passaggio, nell'ultima scelta, nel tiro verso la porta, che secondo me è inaccettabile in questo momento. Io sono d'accordo anche con il 6 a Mazzarri, perché mi rendo conto che questo è il giocattolo che c'è e questo può fare. Oggi sistemare una... Eh no, è drammatica, la sua posizione non è affatto invidiabile. fa riflettere anche il 5,5 a Politano, perché era il calciatore che più si era evidenziato con Garzia, era quello che era riuscito a segnare tanto, molto di più rispetto alle stagioni precedenti e anche lui è andato un po' a spegnersi in queste ultime due gare, quindi è un po' una questione che riguarda tutta la squadra. Allora Patrice, la pagella sarebbe da mezzo voto in meno a tutti, parliamo di chiaro. Assolutamente. È fuori discussione che noi qui cerchiamo di fare anche una pagella dettata da quello che è lo stato d'animo che vorremmo che i calciatori avessero e quindi in qualche modo poi io di natura sono un ottimista e un positivo e quindi cerco sempre di dare quel qualcosina in più. Le giustifichi, ma è fuori discussione che la prestazione di stasera, cioè Politano è Massimo è da 5, Racmani è da 4 e mezzo, lo sappiamo tutti. Che lo botta che è da 5. Assolutamente. Vorrei sentire il parere di Gennaro Iezzo. Allora io sono quasi d'accordo con tutto, con Francesco. Avrei dato un voto in meno, addirittura un voto in meno ad Anghissà e a Zielischi. Mezzo? No, un voto in meno proprio. Perché io penso che sono i due calciatori che l'anno scorso, soprattutto Anghissà, è stato proprio determinante per l'anno scorso. Quello Scudetto, quest'anno invece, dall'inizio del campionato non riesce a trovare proprio una forma fisica. Infatti quando dicevo che è da mezzo voto a tutto, sarebbe da 4, 4 e mezzo. E invece mezzo voto in più ad Osimene perché oggi penso per come ha giocato il Napoli, non era facile per lui e poi quel mezzo voto in più anche per la palla che ha dato a Carascheri che ha fatto una cosa incredibile. Per questo io gli metterei 6. Per il resto sono d'accordo con Francesco. Ha fatto una grande giocata. Alla fine sono d'accordo con Francesco su tutto. Io penso che l'unico voto, l'unico voto adesso importante è un voto, credo, a Pompei, a Mai, tutto quanto. Là, visto che oggi è una giornata particolare. Dobbiamo chiederlo più che darlo. Eh sì, insomma, speriamo che si recuperi al più presto la form, pure perché questo mese di dicembre soste non ce ne sono. Giusto? No, anzi. Andiamo al telefono e poi leggiamo qualche messaggino. Più partite pure sono. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Si fa per dire. Buonasera. Sera. Buonasera. Sera, sera. Buonasera, Napoli. Sempre. Sempre. Allora, io ho il piacere, diciamo, di risentirli dopo la settimana e praticamente la mia sensazione qual è? Vedendo il primo tempo, visto che siamo stati nettamente superiori, la squadra che giocava eravamo occasioni, fattivo occasioni. Ho iniziato ad avere timore, ho detto eccolo qua. No, facciamo la stessa cosa con l'Inter, cioè creiamo, costruiamo, comunque dominiamo il campo, però se poi non concretizziamo inevitabilmente può succedere qualcosa, perché l'annata sembra questa oramai, che mi ha incalato in questo senso fa, cioè i scontri di reti con le squadre forti, noi siamo ancora la squadra dell'anno scorso, nel senso che ci sono delle fasi di gioco dove siamo indovinanti e dove siamo forti, però poi succede qualcosa che l'anno scorso ovviamente non succedeva, è tutta una serie di motivi, nel senso che dietro eravamo più forti, più equilibrati, non solo perché c'era un Kim che dava una sicurezza maggiore, ma poi che faceva giocare meglio anche tutto il reparto. Stasera abbiamo un'attenuante, abbiamo giocato comunque con un sinistro adattato che chiaramente non innesca delle fasi di gioco come l'anno scorso, perché chiaramente sappiamo benissimo che sulla catena di sinistra con Mario Rui c'è un'uscita di gioco molto più fluida, Barascelia si attiva molto di più nel gioco, è molto più propositivo, tutto un insieme di cose che funzionavano in modo diverso. A Rachmani quest'anno ogni qualvolta arrivava una palla in mezzo all'area purtroppo viene sovrastato dall'avversario di turno e prendiamo gol, ricordo ancora che è un gol con Milan dove Giroud non segnava da un'eternità, quella sera ci ha fatto credo due gol nel primo tempo, poi il vecchio all'erato del Napoli lo sostituì nella ripresa. Quindi cosa fare adesso? Io mi faccio una domanda, ovviamente approfitto anche della presenza di Gennaro e Francesco, sembra che effettivamente il lavoro atletico fatto sia stato lavoro atletico che non ha giocato a questo gruppo squadra, quindi inevitabilmente noi paghiamo anche questo, il primo tempo si vede una squadra molto più brillante, il secondo tempo inevitabilmente noi non riusciamo a avere la stessa intensità, la stessa freschezza, quindi sta un po' lì insomma il discorso e tutto là secondo me, c'è un insieme di cose che purtroppo… No, c'è solo la rabbia che in questo inizio di primi tempi che gioca, se magari avessimo avuto la fortuna di segnare… Diciamo, la rabbia è poco, stai edulcorando caro Raffaele, stai edulcorando… No, ti dicevo che se avessimo avuto la fortuna con noi, in quei 20 minuti approfittassimo e potremmo pure aver fatto dei gol, magari questo avrebbe cambiato le cose, invece l'andazzo e la partita viene pure da questo spreco di energie senza conclusioni che demoralizza e poi c'è tutto il resto che continuiamo a ripetere, però potremmo pure aver chiuso un gol con tutti questi attacchi… Il problema è questo qua, se tu fai gioco quest'anno e non butti una palla dentro, perché il gol sbagliato da Barascele è clamoroso, perché se si vede l'immagine, Cesni stava proprio ora, mai si era affatto, stava a terra, Barascele se avesse centrato la porta avrebbe fatto quello, il portiere praticamente si era proteso in tuffo in avanti e quindi l'errore sta là, Politano calcia, la palla scheggia, il palo esterno per la seconda settimana con sei punti, vadova, ha preso la traversa con l'Inter… Purtroppo c'è un insieme di cose, effettivamente la Maroni e Pumbena che ha manato non facesse male! Grazie! Grazie, grazie per averci chiamato! Patrizio, Tania, non so se posso fare una domanda, approfitto che c'è qui il direttore sportivo Montervino, ma Francesco il calciomercato di riparazione di gennaio è vicinissimo, insomma tu su chi interverresti? Un difensore centrale, un vice anghissà che adesso non solo sta giocando male ma poi parte anche per la Coppa d'Africa e anche un terzino prenderesti a questo punto? Allora sicuramente il difensore centrale perché è chiaro che la problematica più grossa la stai avendo lì e se devi fare un intervento in questo momento secondo me devi dare anche un segnale a tutto l'ambiente che la società c'è, c'è, è presente e vuole fare qualcosa di serio. non serve prendere un altro terzino quanto ce ne hai due, comunque la stagione la puoi finire tranquillamente con loro, oppure non serve prendere un vice anghissà quando hai preso Cajust quando ancora non sai cosa può fare l'Instrom perché tanti dicono che possa fare l'intermedio in mezzo al campo. Allora voglio dire, ora devi andare specifico dove sicuramente quello sopra... Però Ciccio c'è un altro aspetto che bisogna anche capire, Zielischi, scadenza di contratto. Eh, quello no. Non lo devi più valutare, cioè per me lo lasci libero così. Ma tanto voglio dire, ormai è un giocatore che non ti firma il rinnovo se non alle sue condizioni, quindi non... da febbraio potresti anche non farlo giocare più, premesso che... Pensare magari di cederlo guadagnando qualcosa in gennaio. Ma adesso non guadagni niente, dal primo febbraio lo prendi a paramento. Cioè io direttore sportivo di qualsiasi altra squadra non la farei mai questa operazione. Però magari c'è qualcuno che dice io magari posso... mi serve il giocatore subito... È un 94 Gennacio, ha 29 anni, quindi voglio dire, ha ancora 3-4 anni fatti bene bene, Oggi se devo spendere 10 milioni di euro per prendere Zielischi, perché di quelle cifre lì parleremmo qualora si potesse pensare non di più 8-10 milioni, se devo spendere 10 milioni... Punti su un giovane. No, non è che punti su un giovane. Lo prendo fra 5 mesi a parametro zero. Premesso che... Al ribasso. Funziona che il calciatore, se cambia squadra a gennaio, oggi guadagna credo 3 milioni e mezzo. Se cambia squadra a gennaio, rischia di prendere gli stessi soldi dove va. Fa 3 anni di contratto, fa 3 e mezzo, 3 e 3, perché poi in base all'età scendi poi. Se va a giugno e ha permesso alla squadra che lo sta prendendo di risparmiare i 10 milioni di euro, probabilmente si trova ad andare a guadagnare 4 e mezzo, 4-4. Quindi quei 2-3 milioni in più li guadagna lui e non la società. Quindi per il giugno... Ok, andiamo al telefono. Ho capito, però... Domanda tecnica per Montervino e Ghezzo. Ecco, prego. Vorrei capire, visto che la squadra ha fatto la benzina nelle gambe, perché García pare che abbia fatto una preparazione fisica disastrosa... Non l'ha fatta. che hanno anche lamentato... Buonasera, mister. Complimenti. Allora, le osservazioni a questa conferenza... Ho sentito che ha ammesso anche lui, no? Io penso che era un po' anche... Che era fatta. No, era in difficoltà anche nel dire qualcosa. Ah, c'è la persona di prima... Scusate. Ancora a telefono, certo. Scusaci, ti abbiamo fatto aspettare. Pronto? Buonasera a tutti. Vincenzo Danaguri. Volevo sapere, visto che García, insomma, durante il pretestivo, non è riuscito a far fare a Napoli un'ottima preparazione fisica, di cui tra l'altro si sono accorti anche tutti i giornalisti che hanno seguito la squadra. Mi chiedevo come mai non si provasse fino a ora a cambiare modulo con un 3-5-2, con Raspadori centrale tra Moissa, Elmas, e Paraschelli e Di Lorenzo sulle fasce, e con Osimen e Simeone lì davanti. Raspadori sarebbe la scelta giusta perché riuscirebbe a saltare l'uomo, a creare gli spazi, a far ricettare anche la squadra, soprattutto a fornire palloni lì davanti a due grandissimi bomber, di cui uno è praticamente in panchina. Mazzara è stato chiamato in una situazione di difficoltà, deve, secondo me, avere il coraggio di cambiare. Nessuno può dirgli nulla, perché è stato chiamato in una situazione difficile. Questo, secondo me, è l'unico modo per uscire fuori da un modulo di gioco che, se non hai birra nelle gambe e benzina nelle gambe, non lo puoi fare. Quindi volevo sapere il commento di tutti quanti, di Gliezzo e Montervino in particolare. Grazie per averci chiamato, ti faccio rispondere subito. Prima Gennaro, perché a lui è particolare. No, vabbè. Quando dice particolare, la gente si preoccupa. Allora, 3-5-2, come diceva il nostro telespettatore, con Cavaraschera esterno è difficile farlo, perché non dimentichiamo che il 3-5-2 in fase di non possesso diventa un 5-3-2. Praticamente il Cavaraschera dovrebbe venire a fare il terzino sinistro. Non ce lo vedo proprio in questo caso. Il 3-5-2 a me piacerebbe con questa squadra farlo, però con Zielischi, con Cavaraschelia da mezzala mi piacerebbe vederlo. Mi piacerebbe vederlo in mezzo al campo. Magari senza marcatura come gli succede, senza raddoppi come gli succede sulla fascia, però è un giocatore così potente, forte tecnicamente, e ti punta l'uomo, ti potrebbe puntare l'avversario, cioè ti punta la porta. Lì vai sull'esterno, a volte devi rientrare, lì vai diretto in porta per le qualità che ha, potrebbe far male. Magari con Osimene e il raspatore lì davanti. A me piacerebbe vederla così. Ma è un'ipotesi o l'hai già visto giocare? No, mi piacerebbe vedere un Napoli con un 3-5-2 con Cavaraschelia in questo momento qua al posto di Zielischi. Ma secondo me la può fare benissimo, perché ogni volta che lo fa, che entra dentro al campo, funziona, riesce a farlo. L'altro non si troverebbe così solo, che nessuno accompagna la squadra. Allora, non verrai mai raddoppiato. Appunto. Ti puoi muovere tra le linee e prendere una posizione dove ricevere e far male all'avversario. Mi piacerebbe vederlo, poi non so se funzionerebbe. C'è da dire che un esperimento del genere con Cavaraschelia o intermedio, mezzala o quinto a sinistra lo ha fatto l'Inter con Perisic qualche anno fa, che era un attaccante esterno, lo ha fatto giocare come quinto a sinistra. È chiaro che vai a sconvolgere tutto ciò che tu voi fino a oggi hai portato avanti. La cosa più difficile da fare è convincere il Presidente che questa squadra in questo momento per salvare il salvabile deve cambiare modulo. Perché il Presidente riprende Mazzati e dice però devi giocare quattro e tre. Prende Garzia e dice però devi giocare quattro e tre. Quindi oggi assumersi la responsabilità di cambiare modulo è una cosa abbastanza pesante. Lo so che devo tagliare. Andiamo al telefono. Pronto? Pronto, buonasera, sono Ciro. Buonasera a tutti gli ospiti. Io volevo intervenire per quanto riguarda il fatto di Meret. Per l'amor di Dio, io mi apprezziamo da Silvano, ma il Meret è un grandissimo portiere. Io l'ho dedicato come l'erede di Zosso. Però c'è di fatto una cosa che ho notato una cosa in Meret ultimamente. In particolar modo quest'anno non sorreggere le palle alte. È una cosa che comunque dovrebbe iniziare a imparare. Perché l'aria è piccola, ma di quanto riguarda il fatto che non ha colpe queste cose. Però su tre o quattro gol che abbiamo questo di testa, se il Meret comanda l'aria piccola, con i gol non li brindiamo. Quindi, ma non questo deve essere qui. Perché, mi ripeto, Silvano, Spirberg, mi può essere testimoni. Che io l'ho sempre detto dai tempi che stavo allo Spina e lì come prima, come secondo il tuo portiere. L'ho sempre detto perché lo vedo bravo. Però ha questo difetto. Poi, per quanto riguarda, giustamente, i sbagli che possono fare. Pure Donnarumma, che dice che a volte è stato fatto un intervista. Quando mai? Lui non l'ha fatto mai delle pape. La pape è un po' succedere. Però se avrebbe un po' d'occhio, io dico questo a parte di insegnare. Perché io, quando giocavo al calcio, la passione mia era di diventare portiere. E giocavo così volta. Avevo quella cosa che le palle alte le prendevo tutte io. Anche se non ero molto alto, però le prendevo tutte io. Non so leggere le palle. Perché il gol che abbiamo preso stasera, se il rileggio della palla la può prendere lui sulla testa di Gatti. E poi, poter sicuro che mi sbaglio. Per quanto riguarda il resto, vede un po' troppo ticchitacca. Anche quando si perde il ticchitacca, non lo bisogna fare. Passaggi di prima, 1-2, 1-2, 1-2, che quest'anno non c'è. Ma la preparazione attuale, il ragazzino purtroppo, non l'ha distrutta. L'ha ordinato. È finito il tempo. Mi piace. Scusate, rimanendo nei paradossi, ora che mi piace giocare ai paradossi, per quello che ha detto Francesco prima, è venuto Garzia che gli è stato chiesto di giocare come giocava Spalletti. È venuto Mazzaglia. Secondo te, se tornasse Spalletti, giocherebbe come Spalletti? Con questa situazione di squadra? No. E sono convinto pure io. No. Adesso no, perché l'involuzione di qualche calciatore è tale da dover cambiare qualcosì. però sarebbe l'unico al quale si potrebbe concedere di cambiare il gioco alla spalla. Ma certo, a Spalletti mi si permetterebbe tutto. Però sicuramente cambierebbe lo schema che ha usato fino ad oggi, perché dovrebbe veramente reinventare una squadra. Sono d'accordo. Va bene, andiamo al telefono. Andiamo al telefono. Andiamo al telefono. Andiamo al telefono che ci chiamano da casa. No, i messaggi sono veramente tantissimi. Stiamo cercando anche di velocizzare per rispondere a tutti e cercare di accontentarvi. Pronto? Pronto, buonasera a tutti in studio, in particolare a Francesco. Ciao, buonasera. Io sono uno di quelli che è dagli spalti di un uomo. Non so se ricordi quell'episodio. Come no? Qualche anno fa. Comunque, proprio questo dovevo intervenire. C'è la grinta che aveva in campo Monteldino. Io la vedo, si spostano pure, però non hanno quella cattiveria su dei palloni, come abbiamo visto i guentini, che ogni pallone aggredivano l'avversario. E' come se saranno con la pancia piena, come si diceva inizio campionato, avevamo paura della pancia piena. Io, attualmente, l'allenatore è cambiato, ma anche sull'errore di Galaschiega ho visto un po' di pancia piena. Cioè, non per qualcosa, non è perché uno ti chiede. No, tu il minimo errore vuoi criticare. Si ti fa sempre Napoli, però vedo molta sbogliatizia. Anche tu, Giacomani, è più attivo tu Instagram che tu hai in campo. Cioè, vedo molta, non lo so, poca voglia. Come si dice, più dello scudetto a Napoli non possiamo vincere. Questo, secondo me, è quello che entra nel test dei giocatori. e quindi ognuno aspetta una nuova proposta di una nuova squadra. Questo è quello che sto avvertendo. e qui si deve far sentire la nuova squadra. Emanuela, non ce la faccio. No, 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 stavo ascoltando con attenzione quello che diceva il nostro telespettatore. Io ho la pancia piena, non la riesco a trovare, non la riesco a vedere, sinceramente. Poi magari può essere un limite mio, un mio pregiudizio positivo verso i calciatori. Però, secondo me, non è questo. Sicuramente stanno rendendo tutti al di sotto delle proprie possibilità. l'abbiamo detto, lo stiamo dicendo da inizio stagione. Sono tanti gli interrogativi che difficilmente riescono a trovare risposta. Io spero a questo punto di arrivare immediatamente a gennaio e provare a vedere i calciatori che hanno una condizione atletica migliore se riescono, diciamo, ad essere, non dico quelli dell'anno scorso perché c'era un altro allenatore, un altro modo di giocare. Io penso invece che la sossa di Natale quest'anno ci vuole. Io penso invece che la gente si sta rendendo conto che forse tutte le colpe di Garzia non erano. No, no, tutte no. No, perché prima era stato proprio, era Garzia il problema del Napoli. Oggi, forse dopo tre partite, quattro partite, si inizia a capire che forse un po' di responsabilità stanno nei calciatori. Andiamo al telefono, che ci chiamano? Pronto? La zona non va alla data. Sì, ciao, buonasera. Buonasera. Io vorrei dire una cosa. Abbiamo massacrato Garzia. Come diceva Izzo, il discorso è un altro. Il discorso è stato fatto da una gamma di acquisti assurda e non ve l'hanno amato che voglio mettere. Il discorso è stato fatto da un calciatore, da giuste, gente che non vede che nessuno conosceva, perché il signor Presidente, come i grandi adabbi con le scuole, adesso vuole fare tutto. Perché i tifosi non condannano niente, non è proprio. Ma ha detto voi che ci siamo perdenti, non è vista perché non ci accorgiamo di niente. ma il discorso è stato fatto. Adesso, per esempio, attacco ai cacciatori. Ma è semplice. In Covara, attacco alla Covara, che non ha un terzino di appoggio, che sta solo lì su quella fascia. Un portiere che fa difficoltà, che non riesce a fare niente, perché anche il nome rispetto ai compagli. non riesce a fare niente. Allora, bisogna riuscire sul mercato e questa mano a cacciato, Presidente, a questo punto, perché se domani vi ci va a Roma, vuoi dire, vi ci scavacca, vi ci scavacca, vi ci scavacca la gente. Ok? Questo è quello. Vabbè, sì. Grazie. Buonasera a te. Buonasera a te. La preparazione atletica, che abbiamo detto prima, la cura comunque soprattutto Garzia. Ce l'ha curata soprattutto Garzia. Con il suo preparatore atletico. Gennaro, giustamente, ha detto una cosa importante quando dice ora stiamo vedendo che forse non tutte le responsabilità sono di Garzia. È fuori discussione che non sono tutte di Garzia. Se il giocatore sbaglia tu per tu col portiere in mezzo che è Garzia. Esatto. Giusto. Però è il perché siamo arrivati a questo. Cioè, io per esempio, rispetto a Gennaro, penso che sia veramente una responsabilità grossa la sua. Soprattutto sotto il punto di vista proprio prettamente fisico. Cioè questa squadra oggi arriva ad avere questa condizione mentale, ma soprattutto fisica perché prima non ha lavorato come doveva lavorare. Poi fuori discussione, c'ha ragione, Jenny, non si può dare la responsabilità ad un allenatore che è andato via quattro settimane fa. Ancora. Andiamo al telefono? Pronto? Basta che mi guardi, ho capito. Cosa? Scusi, non abbiamo capito nulla. Puoi ripetere? Sì, sono Gennaro da Castelbulturno. Ciao Gennaro. Dicci. Voglio fare un saluto ai miei che stanno vicino e che mi stanno ascoltando e voglio dire sempre e comunque forza l'Avoli. Bravo Gennaro. Bene. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao Gennaro. Perché non dire che tutta la colpa è del nostro presunto presidente? Uno, è andato via un difensore fortissimo ed è stato acquistato un difensore per una squadra di metà classifica. Due, è andato via un grande DS e un uomo spogliatoio e non è stato sostituito. Tre, è stato scelto un allenatore che si sapeva non essere in grado di sostituire il grandioso Spalletti. Quattro, lo scudetto dell'anno scorso è merito di Spalletti e di tutti i ragazzi. Infatti la squadra dello scorso anno non era di certo la favorita per lo scudetto. Quattro, è stato ventuto lo Zano e non si sa da chi è stato sostituito. Quattro bis, era quattro bis. Quattro a pari meno perché posso uscire no, io temevo che arrivasse a dieci. Sono veramente tanti i messaggi che ci stanno scrivendo però andiamo al telefono. Io condivido tutto con questo. Condividiamo. C'è da fare una riflessione su questa cosa prima della telefonata prima che mi tagliate e l'umore di molti è quello. Domanda sempre nell'ignoranza insomma tecnica, amministrativa, societaria eccetera. Ma perché all'epoca dell'Aurendis non ha bloccato, non ha blindato tra virgolette Spalletti e Giuntoli dicendo ma quanti ha vinto? Qual è il problema? Vuoi restare? secondo me il problema secondo me il problema di Giuntoli non era neanche a livello economico infatti. Secondo me erano anni che voleva andare via. Giuntoli? Giuntoli erano anni che voleva andare via. Ma anche Spalletti non sarebbe mai. Spalletti uno che vince uno scudetto il suo primo scudetto in Italia e se va via subito penso che il problema non sia il fatto di essere blindato o meno. di soldi o non soldi. Vuol dire che forse magari non c'è allora o non c'è organizzazione societaria o mancano le strutture per fare dei vari tipi di discorsi. La risposta sta nell'intervista che ha fatto ieri esatto. quando ha detto lavorare con Aurelio De Laurenti è come stare in un film horror. Ecco. Ha fatto chiaramente una metafora di quello che dice nel momento in cui tutto va bene roba varia o ti sbuga l'improvviso e ti dice no c'è un problema. è un modo di governare cioè quello di tenere sempre sulla corda capisco però è anche vero che a un certo punto le persone che lavorano hanno bisogno di tranquillità e serenità e lui probabilmente non la dà. Esatto. Andiamo al telefono. Pronto? Ma capite sempre sì. Sì. Ma non è che mi guarda proprio male. non è che fino a che non perché c'è uno lì dietro che... Sì pronto? Ecco se ne è andato. Abbiamo sprecato un buon terbino tagliato così. allora quando ti guardo io puoi parlare quando ti guarda lei ti è assazzita. Succede spesso con le donne. Le persone che rimangono in attesa per tanto tempo dopodiché staccano perché... Giustamente. Pronto? Non è in conferenza. Ti guardo spesso. No. Pronto? Non c'è, non c'è. Allora sentiamo Mattia che ci dice per prima di tutto è finita la conferenza stampa. No intanto stiamo attendendo proprio le conferenze la conferenza di Mazzarri ma anche il suo intervento a Dazon che non è ancora stato pubblicato sui... Non è stato pubblicato o non è stato fatto? Non è stato pubblicato ancora quindi o si sta dilungando per qualche ragione oppure non so. Vedremo. Nel frattempo però ci sono tanti messaggi che ci arrivano. Uno per esempio ci dice... Mazzarri sta arrivando comunque. Perfetto, perfetto. Buonasera ragazzi. Io mi sento di dire che non bisogna fare paragoni con l'anno scorso in quanto le altre big hanno avuto un anno scarso e il Napoli si è esaltato. Mi sentirei piuttosto di dire che ciò che è venuto a meno in questa squadra è la mentalità. Se ci rafforziamo sotto questo aspetto diventeremmo tra le più forti d'Europa. C'è Mazzarri... C'era poco da dire. Era tutto molto evidente. Esatto. Quindi un giro velocissimo e poi credo che sia il caso di andare a dormire tutti. No, facciamo iniziare... Preferenze sempre alle donne. Facciamo a Tocchia. Preferenze alle donne. Ma che deve dire Mazzarri? Cioè io lo vedo in difficoltà anche ad esprimere concetti di calcio. Cioè l'abbiamo detto la preparazione atletica alla fase difensiva ha detto quando avremo qualche tempo in più un po' più lungo per poterci lavorare proveremo. Ha detto in qualche cosa siamo migliorati rispetto a quello che si era visto prima del mio arrivo. Si è auto diciamo complimentato per questo. però insomma la verità è che il Napoli ha veramente tantissimo su cui lavorare e si spera possa farlo in tempi brevi. No, la cosa che ha rimarcato è quella evidente che forse abbiamo detto di meno è quella appunto dell'incapacità di tirare da fuori aree. Eh beh, quello è un dato importante. Due dati velocissimi uno è che chiaramente ripetendo più volte sono arrivato da poco sono arrivato da poco chiede il tempo. È certo. È normale. Secondo dato importante dice oggi ho messo anche nel secondo tempo quattro attaccanti non abbiamo preso un contropiede quindi da forza a un lavoro che lui sta cercando di fare. Poi c'è da dire che per chi magari come noi guarda le cose con un occhio un po' diverso non avevi di fronte l'Inter che ti palleggiava in faccia, avevi di fronte la Juve che è abituata a giocare là dietro e si mette lì e semmai fa qualche contropiede ma a un certo punto abbiamo visto in venti metri undici calciatori non avevano più neanche voglia di farli contropiedi. Quindi come si dice a Napoli ha acciaccato e ha medicato. Vieni. Mister Iezzo. Ma io penso che adesso bisogna archiviare subito questa sconfitta e pensare alla partita di Champions che al di là di quello che può essere il valore della squadra avversario e Napoli deve entrare per fare una grande prestazione ma anche per darsi un po' di di autostima un po' di proprio per affrontare poi le partite che poi arriveranno che non saranno sicuramente partite di alto livello ma saranno partite dove tu puoi fare punti e cercare di accorciare un po' il gap con gli altri se posso chiusare dicendo titolo il titolo è difficile darlo stavo pensando che più più bianconino la mezzanotte insomma come si dice perché anche se sembra una frase un antico proverbio napoletano che sembra negativa ma invece non lo è quando dice più di più black adesso si può solo migliorare mi dà fastidio aver perso non con l'inter non con la ma proprio questa sera mi dà fastidio aver perso così un fastidio che non vi dico quindi il titolo è Pirnavale Po non solo aver perso ma pure qua ci sta un'altra ferita aperta per colpa di Gatti lasciamo perdere lasciamo perdere non vi fanno da calcio secondo me a questo punto io l'ho pensato lasciamo perdere si vorresti augurare buonanotte buona immacolata fatta certo immacolata ormai volta il termine quasi in mezzanotte per cui io voglio ringraziare tutti coloro che innanzitutto ci hanno chiamato seguito attivamente i messaggi sono stati veramente tantissimi grazie per essere sempre in crescita noi stiamo veramente contenti ringraziamo gli ascoltatori in genere che ci stanno seguendo stanno in aumento esatto quindi questo ci dimostra un affetto che noi già siamo felici di ripagare perché lo facciamo con tutto il cuore esatto ringraziamo Gennaro Iezzo grazie Salvatore Turco Mattia Fele grazie a voi 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 questa settimana non ci sarò ma tornerò molto presto io ringrazio tutti gli sponsor a partire da Euronix gruppo Tufano i prezzi più bassi di sempre altrimenti ti rimborsiamo facile rent il noleggio su misura per te cenamo arredamento se puoi sognarlo puoi averlo puerto svago il franchising numero uno in campania DTF Italia nuovi sistemi energetici riscaldamento e climatizzazione CPA cooperativa produttore abbigliamento gli esperti del prodotto ad un prezzo ridotto l'auto è concessionaria di Harry a Napoli KFC lo senti il profumo? KFC finalmente apre al centro commerciale Neapolis grazie a tutti grazie di vero cuore ci vediamo presto ci vediamo quando gioca il Napoli quando gioca il Napoli noi siamo qui con voi vi aspettiamo ciao buonanotte buonanotte